Di scariche chiuse, percentuali di raccolta differenziata ridicole e l'emergenza rifiuta in Sicilia non è destinata a cessare. La soluzione è quella di portare la spazzatura all'estero. L'operazione, già prevista nell'ordinanza del Presidente della Regione delle scorse settimane, scatterà a giorni e in una prima fase saranno i gestori delle poche discariche ancora aperte nell'isola a scegliere la località dove portare i rifiuti che non sono più in grado di smaltire. Era prevedibile che il sistema andasse in tilt dopo la chiusura di diversi impianti non dotati del trattamento biologico meccanizzato e questa è la ragione per la quale è stata chiusa la discarica di Siculiana e che determina la mancata riapertura della discarica di Sciacca nonostante siano stati ultimati ormai da mesi i lavori di ampliamento. I cumuli di spazzatura che abbiamo visto anche nel nostro territorio nei giorni caldi dell'emergenza continuano a rappresentare un serio problema nei comuni del Trapanese o della provincia di Palermo e anche se nelle nostre zone queste immagini sono ormai state archiviate, ciò non significa che il problema è stato superato. Sciacca e gli altri 16 comuni dell'ex ambito territoriale ottimale continuano a portare la spazzatura nei centri di trasferenza e da lì poi nelle discariche del Catanese. I costi sono lievitati e ce ne renderemo conto e non è finita qui perché adesso è necessario anche portare i rifiuti all'estero in quelle località dove da tempo sono stati realizzati quei termovalorizzatori di cui in Sicilia si torna a parlare giusto in questi giorni di emergenza. Operazione che secondo le prime stime fino alla fine dell'anno costerà 40 milioni di euro e che ricadrà sui comuni e poi ovviamente sui cittadini. La Regione non può intervenire, ha già dichiarato l'assessore contrafatto, perché i costi di smaltimento sono previsti all'interno della tassa rifiuti. Eppure l'emergenza dell'ultimo periodo è frutto proprio della mancata programmazione, di scelte e decisioni che dovevano essere assunte e non è stato fatto, di un rimpallo di responsabilità che dura da anni e di una gestione che dagli ambiti territoriali ottimali doveva passare all'SRR, ma che si vuole nuovamente cambiare affidandola ad un'unica agenzia in Sicilia, all'ESER.